Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di visibilità online, otto cose da verificare. Edoardo, oggi vorrei parlare con te di un concetto importante, che è quello del tempo. In questi giorni in cui di tempo tutti noi ne abbiamo tra virgolette di più, volevo capire come poterlo investire nel migliore dei modi. Quindi mettendomi un po' nei panni di un albergatore, di un direttore di hotel o di un receptionist, quello che vorrei oggi portare sul tavolo sono una serie di azioni pratiche che possono essere messe in atto subito. Quindi qualcosa che alla fine di questa puntata o anche durante la puntata i nostri ascoltatori già possono mettere in atto. Quindi vorrei dare degli spunti pratici e delle idee. E prima di iniziare questo podcast ne abbiamo identificati otto, appunto come il titolo della puntata. Il numero era quello. Otto, esatto. E potrebbero anche essere molti di più, però ci limitiamo a questi otto che sono un po' i cardine. E di cosa non voglio parlare? Non voglio assolutamente parlare ancora, Edoardo, di numeri, statistiche e di previsioni. Quindi andiamo sul certo su quello che abbiamo oggi, va bene? Ok, cerchiamo quindi di fare un check-up, un check-up della visibilità online di una struttura ricettiva. In questo check-up ovviamente al primo punto metterei la verifica del sito web dell'hotel. Sito web dell'hotel, ne abbiamo parlato tanto. Il primo punto che andrei a snocciolare è verifichiamo che il sito web del nostro hotel sia ben leggibile da qualsiasi dispositivo fisso o mobile, quindi con le diverse dimensioni di schermo. Se un cliente visita il mio sito da PC deve trovare le informazioni, i testi devono essere della grandezza giusta, così come le immagini, discorso identico per una visita da mobile o da tablet. Quindi deve essere fruibile da qualsiasi dispositivo. Questo un albergatore può farlo, può farlo anche con i diversi membri della famiglia, fargli aprire il sito dai diversi dispositivi e vedere come si presenta. Sì, questo è un ottimo consiglio perché ho visto decine di volte casi pratici di siti di hotel che magari si vedono bene su un certo schermo, che magari è anche la stessa dimensione di schermo che ha il proprietario dell'hotel, ma non si vedono bene su altri. Oltre alla dimensione dello schermo, quello che mi permetto di aggiungere è di verificare anche diverse tipologie di browser, quindi Chrome, Firefox, Internet Explorer, adesso si chiama Edge nell'ultima versione. Quindi cercate di approfittare di questo tempo per provare il vostro sito in diverse salse, in diverse combinazioni. Ok, e per verificare questo aspetto lo possiamo verificare attraverso un tool di cui abbiamo già parlato, che è la Search Console di Google, che ci dà l'usabilità sui dispositivi mobili e ci invia un report con degli errori se i testi sono troppo piccoli da leggere o, per esempio, se i bottoni sono troppo accanto tra di loro e non sono perfettamente cliccabili. Questa cosa la possiamo verificare con un tool gratuito. Questo è figo, molto interessante. Tuttavia anche un'analisi ad occhio nudo già può dare delle belle indicazioni, quindi il tool di Google sicuramente è utile, ma è un pochino più, tra virgolette, da pro user, da chi già ha accesso alla Search Console. Comunque anche questo è molto interessante. Giusto. Secondo punto, il sito deve essere ovviamente veloce. Veloce si deve caricare in poco tempo, quindi se cerco www.hotelroma.it deve avere dei tempi di caricamento molto, molto bassi. Parliamo di pochi secondi. Assolutamente. Questo è importante, sia perché altrimenti l'utente effettua un drop, quindi decide di uscire dal sito, sia perché Google punta molto sulla velocità di caricamento di un sito per l'indicizzazione. Quindi è importante verificare questo aspetto. Ci sono anche in questo caso dei tool, ma la prima verifica la possiamo fare anche noi ad occhio nudo. Ad occhio nudo, per vedere se si carica, se anche noi stessi, diciamo, ci scoraggiamo da navigare il nostro stesso sito. Altrimenti, se uno cerca su Google test, speed, load, website o altre keyword più o meno così, ne escono fuori moltissimi. Mettete l'indirizzo del vostro sito e loro vi generano gratuitamente un report che mostra un risultato da 1 a 10 o A, B, C, D, eccetera, che vi dà appunto una valutazione. E ovviamente se diagnosticate che il vostro sito è lento, a meno che voi non siete un webmaster, non potete fare nulla, ma prendere consapevolezza del problema è già un primo passo. Potreste formulare un'email da mandare al vostro webmaster dicendo guarda che il sito è lento, facciamo qualcosa. Esatto, giusto. Terzo punto è, quando un utente entra all'interno del sito, le call to action sono chiare e ben visibili? Sono sempre presenti in tutte le pagine del sito? Che cosa voglio dire? Se un possibile cliente, un turista, entra nel sito dell'hotel, viene indirizzato verso un'azione oppure si trova completamente spaisato, c'è un bottone che viene messo in evidenza che è cliccabile, un prenota ora, un contattaci, un richiedi un preventivo, è questo. Assolutamente. Io proprio qualche giorno fa stavo rivedendo, facendo la review di un sito di un cliente, di un albergatore, e nella pagina promozioni erano elencate giustamente delle promozioni anche ben indicizzate, quindi cercando su Google la promozione usciva fuori, tuttavia io non capivo dove dovevo cliccare o chi dovevo chiamare per prenotare quell'offerta. E quindi lì significa che la call to action manca e quindi va resa chiara e potrebbe essere anche un numero di telefono molto grande, scritto, bello grosso, oppure un prenota ora che rimanda al booking engine o il contattaci, come dicevi giustamente tu, Edoardo. Quindi assolutamente d'accordo anche su questo terzo punto. Bene. Quarto punto è un po' più da, non da smanettoni, ma da critici che gli piacciono le statistiche. So leggere i miei analytics, quando parlo di analytics mi riferisco a Google Analytics, quindi se accedo al pannello di controllo di Google Analytics, so darmi un'orientata generale sui dati, quali sono i dati che dovrei andare a leggere? Ad esempio, il sito web e il booking engine tracciano delle sessioni uniche di prenotazione? Chiaro, quindi significa che se Mario Rossi sta navigando il mio sito e poi clicca su prenota e da lì passa sul booking engine, noi vogliamo far sì che quella visita venga considerata come una visita unica. Questo si chiama tracciamento interdominio, che deve essere attivato. Quindi semplicemente quello che dovete fare oggi, anche secondo me, è assicurarsi che questa cosa funzioni così. Se non funziona così è un problema. Giusto. Oppure, quali sono gli obiettivi che ha impostato il mio webmaster? Gli obiettivi che si possono impostare a un sito sono diversi. Può essere l'avvio di una telefonata, l'invio di un'email, il tracciamento di una prenotazione. Ovviamente questi obiettivi devono essere impostati dal webmaster, ma io devo saperli leggere, quindi vedere se negli ultimi sette giorni il flusso delle telefonate è aumentato o diminuito, l'email è aumentato o diminuito, perché possono esserci questi dati, a cosa sono correlati, a un qualcos'altro. Quindi anche qui, saper leggerli. Poi è ovvio che impostare un goal, un obiettivo, magari è una cosa che l'albergatore non sa fare, però la lettura deve essere qualcosa che deve saper fare. Esatto, leggerlo sicuro. Poi se nemmeno li trova significa che forse non sono stati impostati, che è una cosa abbastanza grave che però può succedere. Quindi in quel caso prendiamo oggi consapevolezza del fatto che dobbiamo chiedere al nostro webmaster di tracciare gli obiettivi, che sono quelli che dicevi tu. Il tap sul numero di telefono, il tap sull'indirizzo email o il tap o il click che sia su prenota ora. Questi sono solo alcuni esempi. Poi ognuno può essere più certosino o meno certosino nel tracciamento di questi obiettivi. Ok, quinto punto dedicato al content marketing. Ho scritto dei contenuti per il mio blog, per il sito, per i canali social. Scrivere dei contenuti è importante quando lo faccio nel mio blog e nel mio sito perché mi aiuta a migliorare lo stato di indicizzazione del mio dominio e perché appunto dei contenuti freschi, autorevoli, sono sempre appezzati da Google. È importante dire che i contenuti, se scrivo un articolo oggi, non vedrò il giovamento subito domani, ci vuole del tempo per l'indicizzazione, ma i benefici sono moltevoli, appunto perché ci portano delle visite gratuite che appunto sono organiche. Quindi scrivere dei buoni contenuti è una prassi per verificare lo stato di salute non solo del sito ma anche di tutto il brand, quindi canali social ed altro. Sì, assolutamente. Tipo, per spiegare meglio, quello che intendo io è se sto a Roma non è che devo stare a scrivere un articolo sull'attualità di quello che si è da Roma. Un evento potrebbe essere un esempio di attualità, ma in realtà potrei parlare dei monumenti, potrei parlare dei tour di Roma, potrei parlare di cooking class, posso parlare un po' di tutto. Quindi contenuti che sono sempre validi nel tempo e che adesso che ho tempo posso investirlo per generare, per produrre questi contenuti che messi all'interno del mio sito lo rendono più autorevole e che lo rendono più aggiornato e che lo rendono più interessante sia per l'utente che per i motori di ricerca. Quindi non c'è nessuna scusa, dobbiamo metterci subito a scrivere e a produrre contenuti. Esatto, e appunto il punto 6 è un po' quello già detto nel punto 5, quindi sui canali social che tipo di contenuti sto pubblicando? L'obiettivo è quello di dare un segnale ai possibili clienti che noi siamo sempre attivi e operativi e questo lo posso fare oltre con i canali social anche con la scheda di Google My Business. Ah vero, la scheda di Google My Business è interessante, sì perché lì puoi veramente... In contatto con i propri clienti ci possono scrivere magari un hotel fa servizio di ristorante anche quindi il cliente ci può contattare all'interno della scheda di Google My Business. Quindi insomma i canali dove farci trovare sono molteplici, è importante curarli, pubblicare contenuti e prestarci attenzione specialmente in questo momento. Sì, e verificate di essere i proprietari della vostra scheda del profilo Google My Business perché potreste non esserlo. Quindi se non sbaglio Edoardo è linkata la scheda My Business a un account Gmail. Quindi quello che voi potete fare se avete il vostro indirizzo Gmail è reclamare la proprietà della vostra scheda hotel o struttura ricettiva in generale e da lì gestire sia nuovi post che appaiono direttamente come risultato su Google nella barra di destra se non vado errato perché loro comunque li cambiano spesso queste cose quindi potrebbe essere leggermente diverso e anche gestire eventuali recensioni a orari di apertura e così via. Abbiamo fatto, se non sbaglio, una puntata o era un articolo del blog che parlava di questo? Sì, entrambi. Ah, quindi ok. Quindi se siete curiosi, adesso non mi ricordo il numero magari lo mettiamo nell'articolo relativo a questa puntata andatevi a sentire anche l'altro. Come abbiamo parlato anche della Search Console che vi descritto al primo punto quindi si può approfondire anche quello. Settimo punto, inerente alla presenza sui canali di vendita i miei alloggi hanno delle foto accattivanti descrizioni sono chiare e veritiere la mia struttura è ben rappresentata qui entra il concetto di visual, di immagine come io mi pongo all'esterno e qui gli aspetti da controllare sono diversi ossia il mio sito web il mio booking engine e ovviamente sui portali di distribuzione le OTA o i metasearch dove appunto vengono diffuse le informazioni della mia struttura quindi qui bisogna controllare anche qui i contenuti che non saranno saranno anche dei contenuti testuali ma possono essere anche delle immagini Quindi è una buona occasione questa qua di questi giorni un po' più di fermo per approfittare magari in primavera con le piante che fioriscono e che i fiori iniziano ad essere più carini rispetto all'inverno in cui è tutto quanto secco approfittiamo per rifare delle foto per riaggiornare i nostri contenuti cerchiamo di ridare un attimino vita perché poi non avremo mai tempo per farlo invece adesso approfittiamo e quindi ecco questo è un consiglio che do di cuore perché alcune descrizioni sono veramente da ripensare e da rivedere Ultimo punto legato allo studio e alla formazione personale il tempo a disposizione ce n'è stato parecchio e quindi la domanda è mi sto formando sto studiando attualmente veramente i metodi per formarsi sono i più variegati possibili dai webinar ai gruppi facebook in cui si fa brainstorming su concetti alberghieri revenue management ma ci sono anche i blog i podcast come facciamo noi alcuni si sono attivati con corsi di lingua attraverso applicazioni dedicate e ovviamente la formazione non deve essere solo per me stesso albergatore ma anche per i collaboratori che appunto sono all'interno della mia struttura quindi qualsiasi persona si può formare e la formazione è un punto su cui puntiamo tanto insomma assolutamente quindi lo studio riassume un po' tutto quello che è la morale di questa puntata abbiamo dato degli spunti pratici di studio di analisi per mettersi anche un attimino in gioco e rivedere se le cose sono già intavolate nel modo giusto o se qualcosa va rivisto quindi chi ha tempo non aspetti tempo io auguro a tutti quanti un buono studio e teniamo duro teniamo duro buon lavoro ciao ciao